Sono Elena e mi occupo di innovazione digitale in Camera di Commercio di Torino. La cultura digitale è un nuovo approccio al lavoro, basato su tre elementi. Partecipazione, digitalizzazione e riuso dell'informazione. In azienda non basta cambiare strumenti e passare ai più tecnologici, o cercare personale esperto di digitale. È necessario un cambiamento culturale perché la trasformazione abbia veramente successo. Certo che sì! In Camera di Commercio ti aiutiamo a trovare gli strumenti, anche culturali, più adatti alla tua attività. Faremo insieme un'analisi dei processi aziendali e valuteremo come renderli più efficienti grazie alla digitalizzazione. Come punto impresa digitale stiamo organizzando un webinar sulla cultura di impresa 4.0. Investi un'ora del tuo tempo e unisciti al cambiamento!